Ciao ragazzi, benvenuti o ben ritrovati nel canale! Sono contentissima finalmente di rispacchettare il brochet con voi perché il mio ultimo ordine tra l'altro è stato bellissimo, era l'album dei saldi tra gennaio e febbraio è stato veramente, avevo tre colli ho fatto il video, tutto a posto, poi ovviamente ho consegnato i prodotti alle clienti, ho avuto problemi del caricamento quindi ho lasciato aperto, lo ripubblicherò il video lo ricaricherò in un secondo momento, nel frattempo siccome io ho la memoria del telefono sempre perennemente piena ho cancellato il video, mi sono rimasta malissimo perché oltre ai prodotti ci sono stati tanti bei regali molti dei quali erano tutti prodotti novità quindi volevo mostrarvi e niente, ma va bene quindi recupero adesso, anche questo pacco non vedevo l'ora di averlo tra le mie mani perché anche qui ci sono tantissimi prodotti novità quindi questa volta assolutamente vi faccio vedere tutto prima vabbè, ho cominciato ad aprire, a spacchettare troviamo il solito materiale che l'azienda mi fornisce correttamente buste, fogli di fattura e una bella busta con tanti tanti campioncini misto come sempre campioncini di prodotti capelli qui abbiamo la crema per capelli ricci e lisci non so dove è, eccoli qui poi il balsamo, la crema per la famiglia della famiglia bio guardate qui c'è il simbolo che riporta proprio il fatto che sia un prodotto adatto a tutta la famiglia sia per quanto riguarda ovviamente gli ingredienti e poi molto delicato e quindi questo è un balsamo, un balsamo corpo poi abbiamo un po' di profumi e invece per quanto riguarda la skin care abbiamo questo che è il siero bifasico notte dell'antiage global un po' di cremine giorno della sebo pure vegetal per pelli grasse e basta, profumi, questo qua ma adesso andiamo a noi allora, vi dico un po' che ultimamente, tra i miei clienti e non le nuove sta andando alla grande l'Uni, il Monoi tutte pazze per il Monoi e il bello è che sta andando tantissimo adesso in ogni estate io ad esempio adoro la linea Monoi però mi piace molto utilizzarla soltanto nel periodo caldo invece a molti miei clienti questa linea è piaciuta così tanto che molti di loro la utilizzano durante tutto l'anno e molti di loro, insomma, hanno questo profumo tra l'altro lo conoscono perché io ho creato dei campioncini perché purtroppo, non so perché il Miro Scenone ancora mi fa i campioncini del Monoi quindi avevo acquistato delle piccole provette e con il mio profumo ho dato la possibilità a molte di poterlo provare e da lì che ve lo dico a fare e quindi mi hanno ordinato questa è una nuova cliente appunto perché ha sentito, insomma, la profumazione da una mia cliente e una sua amica e quindi ho conosciuto questa persona che mi ha subito ordinato lui il profumo Noi questo è uno dei toilette ma per me, l'ho sempre detto io lo considero uno dei parfum perché ha una consistenza fantastica ha un profumo carinissimo, ovviamente in vetro io adesso non lo apro per non rovinare il prodotto della cliente che oltre al profumo ha voluto abbinare anche il suo shampoo d'occia uno dei soliti, da 400 ml e si chiama shampoo d'occia appunto perché, contrariamente a tutti i nostri bagno d'occia questo va bene anche per i capelli infatti qui è riportato lo dico sempre perché magari ai miei clienti o a voi può sfuggire perché solitamente i bagno d'occia nostri insomma, fungono soltanto da questo invece quello Monoi appunto perché è un prodotto che si usa molto in estate hanno fatto una formulazione che va bene per entrambi in modo da poterlo portare in vacanza al mare una cosa molto molto comoda sono questi particolari che l'azienda ha che sono molto molto belli proseguiamo con questa scena del Monoi e faccio vedere il nuovo prodotto novità ecco questa offerta era dedicata soltanto a noi consulenti capogruppo, team leader ovvero di poter prendere a un prezzo stracciato il set erano venduti insieme della crema Monoi perché di tutta la linea in effetti mancava ancora la sua crema corpo abbiamo la crema toposole però proprio la crema corpo il latte corpo non ancora lo avevamo ed eccolo qui è bellissimo beh, io poi quando vedo i prodotti novità impazzisco mi devo dire bello, bellissimo perché poi mi piace perché io adoro quando le creme il latte corpo li fanno a pump perché sono molto molto più pratici e poi nella confezione direttamente da 390 ml bellissimo ho preso il set uno ovviamente lo userò io lo voglio testare e l'altro magari aspetto un po' da regalare comunque da tenere magari posso creare anche qui di campiogito per provare ai clienti perché no Mono assolutamente è mio e questo ovviamente non ancora esce uscirà fin là non so se nel prossimo catalogo tra l'altro qui vedo qualche album quindi magari poi lo scoprirò però ad oggi non ancora c'è ma veramente uscirà brevissimo e quindi ecco il primo prodotto novità sono contentissima di averlo preso poi invece sempre ordini dei clienti mi hanno preso un bagno doccia ai fiori l'altro invece è mio ecco l'ho preso io perché stavo terminando il bagno doccia io li devo sempre avere in casa perché ho le clienti che mi chiedono sempre questi tipi di prodotti da regalare al momento quindi bagno doccia le creme mani balsamo labbra questi prodotti che utilizzano un po' tutti quindi ho sempre una piccola scorta un piccolo negozito di brocce in casa ovviamente prendo sempre le cose che che usano tutti non vado a prendere qualcosa in particolare ma il bagno doccia le creme mani ecco poi c'era questo set creato dai brochet questo è un set capelli antiforfora costituito dal suo shampoo da shampoo antiforfora e qui questo me l'hanno ordinato ecco non è la prima volta questo è invece la prima volta che ce l'ho tra le mie mani perché non me l'hanno mai ordinato e non l'ho mai preso perché fortunatamente non soffro di forfore sulla cute questo quindi è proprio il trattamento la lozione antiforfora e quindi era vendibile proprio c'era una promo ecco prendendo questo set poi sempre che hanno preso le clienti qui abbiamo un fondo tinta della Zero Diffor Comfort questo rispetto a tutti i fondotinta ecco che sono in commercio non soltanto i brochet del mondo che sono tutti da 30 ml questo è nel vasetto in vitro invece è da 40 ml e è un fondotinta abbastanza coprente ce l'ho anche io e vi posso assicurare che di tutta la linea dei nostri fondotinta questo è il più coprente poi sempre che mi hanno preso le clienti c'è lui questa è la crema viso della elixir botanique che ha fattori di protezione 50 UVA e UVB e quindi la cliente lo ha preso per proteggere il viso dai raggi solari tutto l'anno e questo è da 30 ml crema classica giorno però insomma ha il fattore solare abbastanza alto non è nel vasetto in vitro ma è stupicino poi in realtà questo è un ordine che ho fatto più per me perché ho terminato diversi prodotti però continuiamo allora quello che mi hanno preso le clienti c'è questo maschera volume poi vediamo un po' nulla abbiamo terminato allora c'è questa tra l'altro questa è la maschera idratante della linea idra vegetal in questo formato piccolo ma è anche tanto comunque un bel prodotto ovviamente ml che il brochet ti regalava acquistando un un prodotto viso e se non sbaglio è un regalo mio perché io sto per terminare tutta la mia linea elizio botanica di cui ho ovviamente tutto crema giorno notte contorno occhi e siero ma adesso ho voglia di provare questa e finalmente l'ho presa la linea filler vegetal che è una linea più anti age e questa è effetto rimpolpante io ho preso la crema giorno e ho già anche contorno occhi e siero che mi era stata regata dall'azienda con un ordine precedente e quindi ho dovuto acquistare soltanto la crema giorno più la prenderò anche la notte ovviamente e niente continuiamo poi un altro bellissimissimo regalo che ho ricevuto dall'azienda semplicemente facendo quest'ordine è questa l'anti age global la crema correttrice scusate da giorno nel formato 30 ml wow grazie mille perci ho già due regali ma non è finita qui poi io sto terminando l'unico mascara che ho in casa e ho voluto prendere lui la novità quanto è bello in questo rosa e questo è il chills miraculeux questo mascara ovviamente black che poi magari aprirò in un video non lo so e io ho preso questo poi poi ho assolutamente bisogno di uno scrub corpo perché il mio corpo veramente lo necessita e in casa non ne arrivo più e ho preso questo a me piace molto lo scrub della linea monoi gli altri diversi ma questa volta ho voluto prendere lui ovvero il commoge della linea riparazione quello alburi di carattere e calendula e questo è molto bello tra l'altro hanno riformulato tutti i packaging di questa linea è in questo bellissimo tubo da 250 ml e come potete vedere qui sul fondo il brochet ha veramente fatto una chiusura piccolissima per insomma cercare di riciclare di evitare tanta tanta plastica e guardate qui il come il tappo è molto molto particolare sembra quasi tagliato sembra quasi che non ne abbia ecco invece questa è una cosa molto molto bella da parte dell'azienda queste sono le attenzioni che mi piacciono tantissimo poi altro regalo prendendo un prodotto viso antietà mamma mia ragazzi questo veramente lo aspettavo lo volevo poi ho visto che l'avrei ricevuto e non ho dovuto comprare sto parlando del mamma mia confezionata pure così mamma mia del guascia mamma mia mamma mia eccola qua mamma mia ragazzi che spettacolo guardate qua che bella il guascia è questa pietra mamma mia che bella ma il colore che serve per insomma farci i massaggi sul viso si può utilizzare qui qui insomma ci sono tanti video coreani dedicati a questo prodotto e utilizzando questo tutti i giorni ovviamente per almeno dieci minuti si vanno a distendere le piccole righe di espressione le lughette si alzano gli zigomi oltre a secondo me farci un bellissimo massaggio rilassante poi ovviamente se è fatto da qualcun altro secondo me ancora meglio ancora più rilassante però non vedo l'ora di provarmelo la sera quando faccio la skin care questo è un altro regalo che si può ricevere ordinando all'album ordinando un prodotto da pagina tot a tot poi ovviamente ve lo scrivo qui sotto magari e quindi sono contentissima altro regalino che belli un, due, tre regali andiamo avanti è nulla qui invece adesso vi faccio vedere un po' di prodottini che io ho preso veramente ad un prezzo simbolico stupidaggine 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 prodotti novità allora ad un prezzo proprio stupidissimo ho preso prodotti novità l'acqua profumata della linea Sur la Land che è un profumo il profumo la lavanda che noi in realtà già abbiamo però abbiamo soltanto lo de parfum in esclusiva uscirà penso nel prossimo album o al massimo tra due cataloghi quindi uscirà anche l'acqua profumata che è questa qui e poi ho potuto prendere anche il bagno doccia che bello questa però quella in direzione a 200 ml eccolo qui il bagno doccia e per finire la sua cremina mani quindi questi sono prodotti diciamo che usciranno in esclusiva soltanto per un periodo limitato non vedo l'ora di provarli questi ovviamente li terrò gelosamente per me perché io adoro il profumo della lavanda e poi sempre a un prezzo piccolissimo ho preso il set ai fiori che mi piace tantissimo il suo balsamo labbra la cremina mani e quindi per questo ho preso anche un altro bagno doccia di questa linea perché ho potuto prendere ad un prezzo veramente stupido 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 cioè praticamente tutto questo set ha neanche il prezzo di questa crema mani il pannetto era insieme nel kit e poi il piccolo bagno doccia sempre nella linea e insieme c'era anche il bagno doccia al lampone e menta quindi questo era il set uno due tre quattro e cinque ho preso questo set da cinque pezzi e il totale praticamente è neanche il prezzo di uno di questi due top eh sì questi sono i nostri vantaggi poi ho voluto prendere questo set sempre riservato a noi consulenti di piccoli bagno doccia che io prendo da omaggiare alle mie fantastiche clienti eccoli qua i bagno doccia abbiamo due alla vaniglia ehm altra selvanica e due al mango e coiandolo eccoli qua questi li li regalo magari adesso in occasione della festa della donna poi tiriamo fuori un po' di album eccoli qua questi sono questo è l'album che c'è ancora in vigore dove potete trovare tra l'altro l'offerta con il guascia il regalo ve lo faccio vedere faccio vedere ecco qua vedete quindi il guascia il regalo con l'acquisto di due prodotti anti età ecco ecco i due prodotti anti età novità il mascara che ho preso io set capelli vi ho fatto vedere mi hanno preso quello antiforfora e poi qui spoiler ecco i prodotti che ho preso in anteprima usciranno quindi prossimamente ovvero dal 19 marzo ecco ragazze vi ho mostrato tutto quanto lo spacchettamento dell'album 3 vi lascio il link qui sotto di questo album e fatemi sapere se vi è piaciuto vi mando un grandissimo bacio vi lascio tutte le info dedicate qui sotto e ci vediamo alla prossima ciao ciao